Ninfeo A-S-M-R Eila, Eila, Eila Ciao, 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 ciao Carissimi Ninfetti miei, come state? Spero stiate benissimo Quest'oggi mi son fatta una bella coda con i miei fiocchi particolari Che quando li avevo presi la prima volta mi avete detto sembravano delle orecchie di cocker Ma perché all'epoca ne mettevo due Adesso diciamo che hanno un aspetto un po' meno ridicolo Ma oggi, come avete visto dal titolo, sono qui per mostrarvi Delle, altre, altre, altre Nuovi completi di A-Science Apart Come sapete io amo questo brand Ci tengo a sottolineare il fatto che si tratta di una collaborazione gifted Quindi non vengo pagata per parlarvi appunto di questo marchio, di questi capi Ma li ho ricevuti gratuitamente Quindi come sempre la mia opinione è sincera al massimo Anche perché poi, come sempre, tutto quanto lo vedete indossato Quindi, insomma, mi faccio vedere da tutte le angolazioni Quindi si vede perfettamente Se un capo è valido o meno Spoiler, lo sono Comunque Questa volta ho fatto delle scelte un pochino diverse In particolare c'è un capo Che proprio per la prima volta mi è piaciuto tantissimo Purtroppo avevo fatto delle altre scelte dal sito Ma al momento di inviarmi il pacco, purtroppo La mia taglia era andata sold out Quindi la mia referente Valentina, che ringrazio come sempre Ha modificato il mio ordine Andando a mettere nel pacco Un modellino alternativo dello stesso colore che avevo scelto io Ma di una linea nuova E devo dire che mi è piaciuto molto lo stesso Quindi sono molto contenta di questo change E speriamo che magari con la prossima collaborazione Il set che aveva tocchiato Torni disponibile in modo che io possa prenderlo Tanto credo che stia venendo giù una bomba d'acqua Perché sento la pioggia che batte sui petri Spero non dia troppo fastidio E che anzi sia magari rilassante Anche perché pure venerdì che dovevo suonare È venuto giù un'acqua Un'acquazzone terribile Terribile mi sono anche spaventata Perché il vento era assurdo E vi dico solo che ero sotto un capannone E volavano Rotteravano banche di ferro e legno Quindi il maltempo quest'anno si fa sentire particolarmente Prima di partire però Voglio darvi il codice sconto Che Ocean's Apart mi ha gentilmente riservato Perché stavolta è davvero super 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 vantaggioso Con il codice NINFEA60 Potrete avere uno sconto che vada un minimo garantito del 40% su tutto il sito Fino ad arrivare a un massimo del 60% su alcuni set Quindi è un'ottima ottima promo che vi condivido con piacere Anche perché sapete ripeto Sono innamorata di questa azienda Ma ora entriamo nel vivo del Trayon Il primo capo che voglio mostrarvi è Questo qui Si tratta di un vestitino Lobe dress Che è davvero davvero carinissimo Innanzitutto presenta Le coppe leggermente imbottite sul seno Che è una delle cose che io amo di più Di questi capi Anche quello che indosso Che è quello delle costine Che mi vado a impazzire Tutti i capi hanno queste Coppe Preformate Che fanno davvero un effetto bello Bello sul seno Anche per chi non è morto Le spalline Sono abbastanza spesse E Il vestito si presenta Abbastanza scollato Ma senza cuciture È come se fosse un taglio a pipo Sul retro C'è questo bellissimo gioco di spalline Regolabili Incrociate E È una scollatura piuttosto profonda Ma la cosa più carina A mio avviso È la parte Inferiore Perché al di sotto della connellina Vi è questo pantaloncino Che ha Una taschina per il telefono E soprattutto Il cavallo Imbottito È difficile Mostrarvelo ma È come se fosse Un'imbottitura Tipica dei pantaloncini Da ciclista E infatti Con questo Che comunque è removibile Cioè Come vedete c'è l'asola E questa imbottitura Che è presente nel cavallo Si può rimuovere Ma io la lascio Perché andare in bicicletta Ragazzi Con l'imbottitura È una delle cose più comode Del pianeta Provare Per credere Potete anche fare tanti chilometri Senza avere il sedere quadrato Quando scendete Ma il tutto Non si vede Perché sopra c'è La connellina Intanto vi metto La foto Della modella E vi dico Giusto due cose Cioè che io Questo vestitino L'ho preso In taglia S E avendo le spalline Regolabili Mi veste Perfettamente Perché Il rischio Quando ci sono Questi vestitini Che di fatto Sono come delle tuttine Avendo i pantaloncini E che essendo piuttosto alta A volte Mi tirano Un pochino Sul cavallo In questo caso Essendo regolabile Io Ho tirato Un po' giù La fibbietta Della spallina E veste Perfettamente Senza tirare Tra l'altro Visto che questo Vestitino L'ha preso anche Pelia Del canale Black Moon ASMR E l'è stata In canto Quindi Adesso vi faccio vedere Su una fisicità Diversa Come appare E comunque Consiglio A tutti voi Di vedere anche Il suo video Perché lei Ha un whispering Pazzesco Quindi Ecco la clip 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 E questo è Il vestitino nero Indossato Come vedete Appare proprio Come un vestitino Sportivo Molto Molto Spizioso Molto carino Con questa Perla Scurlatura Solo E Retro Questo Intreggio Di Spalline Ma Al di sotto È Un Completino Sportivo A tutti Gli effetti Comodissimo Versatile Perché comunque Va benissimo Per giocare Tennis Andare In bicicletta Fare anche Semplicemente Una città All'aria Aperta Che Magari Preveta Un po' Di movimento Ma Durante la quale Si vuole essere Un po' Carina Quindi Molto 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 Carino Eccolo Qui E questo Era il vestitino Nero Indossato Non vi ho mostrato Bene Che aveva Anche Il L'occhino Stampato Stampato Sopra Con Una specie Di materiale Gommatino Eccolo qua Questo Questo Veramente Uno Una delle scelte Migliori Da quando Collaboro Con loro Secondo Forse Solo Alle Connelline Pantaloncino Oddio Ci sono I tuoni Alle Connelline Pantaloncino Che metto Sempre 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 Quando vado a fare I concerti Tra l'altro Saluto Mando tanti baci Ai ragazzi Che sabato Durante il concerto A casa Lelanti Mi hanno salutata E Si sono fermati Un attimino A parlare Con me Mi piace Sempre incontrarvi Quando sono In giro Bene Passiamo Al secondo Completino Che è Quello Che di fatto Ha scelto Per me Valentina E non si è Sbagliata Perché Mi piace Tanto 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 Il colore È proprio Ericosissimo Vi faccio vedere A parte Superiore Questo è L'Ope Bra È un set Fuxia Con le spalline Pelle Larghe Che si Incrociano Sul retro Vediamo se riesco A rivedere I dettagli E la caratteristica Di questo set È che Non ha Praticamente Come vedete Cuciture È tutto Tagliato a vivo Se così Vogliamo Definirlo Ha ovviamente La coppettina Rigida Il logo Sempre in questo Tessuto Gommatino Così come L'Ope Adressa Diciamo che le caratteristiche Di tessuto E di Cuciture Assenti Sono le medesime Essendo comunque Della stessa Linea Che dire È molto comodo Ma Visto che Il top È abbastanza Rigido Vi consiglio Di stare Attenti Con la taglia Perché io Sono a metà Tra un XS E una S Ma questa S Mi sta giusta Quindi se ad esempio Siete un mix Tra S e M Magari per questo modello State sulla M Stessa cosa Vale per I pantaloncini Questi sono veramente carini Eccoli Eccoli qua Anch'essi Hanno come Il vestito Essendo Della stessa linea L'imbottitura Sul cavallo Anch'essa Removibile Tramite Tramite Quest'asola Vedete C'è all'interno L'imbottitura Ma si può Rimuovere Questi sono Gli Hop Short E sono In due Diverse Gratazioni Di fucsia Un lato C'è sul lato Un fucsia più chiaro E Al centro E sulla banda Che Si stringe in vita Un fucsia Più scuro C'è anche la solita Classica Taschina Per Tenere Lo smartphone Cosa comodissima Se Se l'è in giro Senza marsupi Senza zainetti Senza nulla Voi mettete qui Il telefono E Siete sempre Insomma raggiungibili Questi pantaloncini Adesso vi metto la foto Della modella Di tutto il set Sono taglia S E Anch'essi sono In un materiale Un po' più Rigido Rispetto Al resto Dei completi Che di solito Propone Ocean support E' un materiale Molto Molto Contenitivo Quindi Il mio consiglio Se Siete Indecisi Tra una taglia E l'altra State su quella Superiore A me A me La S Veste Molto Bene Quindi Mi piace Moltissimo Ma Rispetto Ad altri Tessuti Tende a essere Un po' più Contenitivo Un po' più Rigido Che dire Che dire Quindi Mentre fuori Piove Che Dio Lo manda Vi faccio vedere Questo set Indossato E quindi Ecco la clip 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 Molto Molto in tema Anche con Il recente film Di Barbie Che sta andando Tantissimo Io non ho ancora visto Non so se lo vedrò Ma E' davvero carino Come dicevo E' molto Contenitivo Molto Comoda L'imbottitura Sul cavallo Che veramente Permette di andare In bicicletta Anche per Un lungo periodo Senza soffrire Eccolo qui Tutte le triangolazioni Eccolo qua E questo era Il secondo set Indossato Passiamo All'ultimissimo capo L'ultimo set Che Anche qui C'è stato Un piccolo Change Nel senso che Avevo scelto Il Brooke Set Nella versione A pantaloncino Che purtroppo Nella mia taglia Era finita E quindi Valentina Mi ha mandato Lo stesso set Ma col pantalone Lungo Cosa che Non mi dispiace Perché Comunque Alla fine Da ottobre A maggio Io utilizzo I pantaloni lunghi Quindi Mi servono Sicuramente Di più Che Quelli corti Il top È carinissimo A parte che La cosa carina È che Essendo Dello stesso Fuchsia Dell'altro Completo Si possono Tranquillamente Intercambiare Ad esempio Posso mettere Questo top Con l'altro Pantaloncino E viceversa Comunque Vedrete tutto Quindi abbiamo Questo top Carinissimo Di un tessuto Più morbido Meno rigido Che ha la caratteristica Di essere Arricciato Al centro Vedete Molto Molto carino Sempre Cuppetta Rigida E logo Sia sul retro Che Davanti Così Argento La spallina È Regolabile Come al solito Di questa sorta Di raso Lucido Che fa contrasto Con Il tessuto Opaco Del resto Punto Del top Io l'ho preso In taglia S E veste Molto bene Tutti i top Di Oceans Apart Trovo che Vestano Molto bene Almeno Su di me Che invece Ho sempre Avuto difficoltà A trovare Top Sportifiche Non Schiacciassero Troppo Cioè Praticamente Mi ritrovavo Sempre Ultra piatta Ultra schiacciata Perché appunto Non riuscivo a trovare Soprattutto Nei top Alla fine I leggings Me la sono sempre Cavata Ma per i top Era un problema Il pantalone Invece È appunto Nella sua versione Long E credo Di aver già avuto Un pantalone Di questa Linea Qui si è un po' Girato il cartellino Presenta Queste costine Nella parte Della pancia Wow Ancora temporale E la cosa Che mi piace Un sacco È che Sul lato B Presenta Questa Arricciatura Che fa Uno splendido Effetto Push up Sul sedere Sui glutei Li fa Risaltare Il tessuto È molto più morbido Rispetto All'altro E A mio avviso È comunque Piuttosto Contenitivo Quindi Va appunto A modellare I punti giusti Vi lascio La foto Della modella In modo che Possete vedere Come si presenta Sul sito E poi Lo indosso io Come al solito Anche i pantaloni In taglia S Diciamo che All'inizio I top Li prendevo XS Ma Preferisco Una vestibilità Un pochino Più morbida Anche se Magari Risultano Un pelino Un pelino Più abbondanti Però Preferisco Così Che avere Un top Proprio Giusto 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 Quindi Eccola Clip Eccola Clip Eccola Clip Eccola Clip E questo E' L'ultimo Set Indossato Il colore E' Molto simile A quello Di prima Mi piace Tanto Tanto Veste Perfettamente Segue Le forme Comprimendo Nei punti Giusti Ma senza Risultare Assolutamente Fastidioso E allo Stesso Tempo Risultando Comodo Soprattutto Quando si fanno Alcuni Movimenti Alcuni Workout Il fatto Che questi Completi Siano belli Esteticamente Ma anche Funzionali Li rende Veramente I miei Completi Preferiti Per fare Sport E non lo dico Solo perché Ho l'opportunità Di riceverli Gratuitamente Ed ecco L'ultimo Set Indossato Aspetta che L'appoggio Qui Io vi ricordo Il codice Scott Ninfea 60 E ve lo ricordo Perché è molto Conveniente Se volete Provare Alcuni Capi Di Oceans Apart Potrebbe Essere Una delle Promo Più Interessanti Dell'ultimo Periodo E che dire Ringrazio ancora L'azienda Ringrazio Valentina Per Avermi Dato La possibilità Di Ricevere Gratuitamente Questi Capi Che a me piacciono Un sacco E Alcuni di voi Che hanno Acquistato Dal sito So che si sono trovati bene Trovate Sono ragazzi Anche se ci sono Pure dei capi Unisex Che vestono Anche Fisici Maschili Però C'è un capire Valentemente Un sito Di appigliamento Femminile Cioè ci sono Un po' più capi Femminili Ma Se anche Gli uomini Vogliono dare Un occhio C'è qualcosa Anche per loro Io Vi mando Un Pagione enorme Spero che questo video Vi abbia rilassato Io Non esco dalla mentalità Boomer Dei video orizzontali Però Visto che Carlotta Che saluto Ciao caro Ha iniziato A fare i try on haul In verticale Vi chiedo Se Può farvi piacere Un video In quel formato Io non so Se Voi preferite Guardare i video Dal telefono Girato Per così Perché io Anche quando guardo i video Dal telefono Lo giro in orizzontale Mettendolo a tutto schermo E Lo guardo in quel modo Però se doveste preferire Un formato verticale Fatemelo sapere E Cercherò magari Di accontentarti Di nuovo Tanti baci E al prossimo 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 Tante carezzine Al prossimo video Buona 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 Noorte Buona Buona Noorte Noorte Buona 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 Buona